Volge al termine il corso che si è svolto qui a Palazzo Angeli nell'ambito di educazione civica a scuola. Cosa ci può raccontare professoressa? Il corso sono state quattro giornate davvero intense, relazioni di altissimo livello, corso partecipatissimo perché abbiamo avuto una trentina di partecipanti in presenza ma più di 50 partecipanti online. Il corso si sta concludendo adesso con la consegna degli attestati di frequenza da parte dell'assessore regionale alla cultura e al territorio e alla sicurezza, l'avvocato Cristiano Corazzari. C'è una grandissima richiesta di una seconda edizione per l'anno prossimo e questo ci fa davvero piacere perché vuol dire che abbiamo intercettato davvero un'esigenza formativa nelle scuole da parte degli insegnanti e speriamo insomma di riuscire a garantire anche una seconda edizione l'anno prossimo. Ci vedremo dunque all'estate prossima. Adesso stiamo oltre a tutto il materiale didattico che è stato utilizzato e che verrà mandato ai partecipanti. Abbiamo predisposto un questionario per i suggerimenti da parte dei partecipanti perché ci teniamo a capire davvero quali sono gli argomenti che desiderano approfondire. E devo dire che questa edizione è stata una sorpresa proprio per la fattività degli iscritti. Ieri i gruppi di lavoro sono stati davvero molto attivi e oggi la consegna, la restituzione di quello che è emerso ieri è stata una mattinata davvero arricchente per tutti. Grazie.